Ciao ragazzi Buonasera a tutti Bentornati qua sul canale Sto guardando la partita tra Verona e Empoli Che spettacolo Mancano due minuti L'Empoli era in vantaggio a Verona per 4-1 Adesso il Verona ha fatto un 1-2 Pazzesco 4-2 4-3 subito E ora si mancano due minuti Ma che partita ragazzi E meno male che doveva essere un turno Un po' di Coppa Italia Un po' così e così tra squadre E invece questa è stata È una gran bella partita Adesso vediamo come andrà a finire Intanto ce la seguiamo in diretta Oh ragazzi ieri ha vinto il Genoa Prima vittoria di Andriy Shevchenko Che bello Andriy Che bello ha vinto Come son felice Dai ci voleva un po' di carica Che ne sai magari il Genoa inizia un pochettino a prendere fiducia Insomma Deve iniziare a darsi una mossa E adesso le ultime due giornate Deve fare punteggio pieno Bene ragazzi Allora Che ne dite di parlare anche un po' di Milan Avete sentito anche il CAF In Africa Che poi sarebbe Il CAF sarebbe Una sorta di UEFA Un po' come c'è la UEFA Qua in Europa Lì c'è questo CAF Che Insomma hanno Praticamente E' uscita fuori adesso la polemica Delle squadre inglesi Che non vogliono Far andare i giocatori Africani per la Coppa d'Africa E loro stanno valutando adesso la situazione Insomma ragazzi Quando si muovono gli inglesi Porca mia Se l'avessimo detto noi E diciamo Chi siete voi Zizzi Lenz Anzi mandatci pure qualche europeo pure a giocare Hanno parlato gli inglesi Hop Sull'attenti Eh si rinvia adesso Sti cazzi Va bene va bene Speriamo Speriamo Devo essere sincero Da un lato E' sempre bello vedere giocare certe competizioni Come l'Europeo Il Mondiale La Coppa d'Africa Coppa d'America Però dall'altra Sinceramente Per chi ha dei giocatori africani in squadra Diciamo E' deleterio per i club Perché ragazzi Qua tra infortuni Troppe partite Ci si mette anche la Coppa d'Africa Poi oltretutto la pandemia Lì c'è una variante pure strana in Africa Tutte queste paure Effettivamente Non è per la quale Perciò Vedremo Vedremo Speriamo in bene Speriamo in bene Ragazzi Cosa dire Cosa dire Intanto qua la partita è ancora sul 4 a 3 4 minuti di recupero Perciò è il novantesimo adesso Ancora 4 minuti Bene raga Allora Parliamo un po' di Milan Oggi A Milanello Han detto che è rientrato Ad allenarsi in gruppo Non in gruppo Ancora allenamento a parte Però Si è visto meglio Giroud Perciò È possibile Almeno un rientro Ecco Di tutti gli infortuni che abbiamo Almeno Giroud Poi è vero che da quel lato lì Abbiamo Ibrahimovic Che per il momento È abbastanza in forma In condizione Ha giocato È vero Sabato Però fino a domenica C'è C'è tutto il tempo Per poter riposare E va bene Detto questo Però è un recupero importante Sperando poi in bene Per la prossima Ma soprattutto Per l'inizio anno Ragazzi Per l'inizio anno Io poi sono uno di quelli Arrivando anche al mercato Io sono uno fuori un po' dal coro Per me il Milan Non deve fare nessun tipo di mercato Secondo me il Milan Deve andare avanti così Perché rischiare di prendere A meno che c'è l'occasione C'è il profilo giusto Che il giocatore proprio Magari stanno seguendo Si libera Ok Allora è un altro discorso Ma prenderlo Tanto per prenderlo Di corsa Perché forse Perché non forse Perché di qua Perché di là Secondo me è meglio di no Perché poi tanto ragazzi Eh hai soltanto il campionato Adesso che sei fuori dalle copse Ho capito Ma non è che l'Inter Che è ancora in coppa O eventualmente il Napoli O anche l'Atalanta Che sono ancora nelle coppe È scontato che arrivino Fino alla fine Possono anche solo fare Due partite in più E da qua fino a febbraio Che rinizia Ci sono due mesi di campionato Quasi in mezzo Un mese e mezzo Perciò è lì che devi cercare Cioè lì non ce li hanno Neanche loro le coppe Perciò È tutto questo E io non Cioè per una competizione Secondo me il Milan Con la pausa di natalizia Che ci sarà Tra una settimana I rientri Di giocatori Che sono adesso Infortunati È più che sufficiente Anche per quanto riguarda Il difensore centrale Permetto Mori Romagnoli Che sono i titolari Del centro Della difesa E Gabbi Eventualmente Se si dovesse In fortuna Qualcuno C'è anche Calulu Che lo puoi spostare Perché comunque Rientrerà Calabria E poi sulla destra Hai sia Calabria Che Firo Lorenzi Insomma per me Troppi stravolgimenti Non ne deve fare A centrocampo Sì è vero Che Benasser È così Adesso Bisogna vedere Come andrà a finire Appunto Questa cosa qua Dell'annullamento Della Coppa d'Africa Se è vero Se no Se si farà o meno Però A parte quello È vero Che tu hai Benasser E che si Che eventualmente Dovranno partire Però Hai Tonali Hai Bakayoko Che comunque Lo stai facendo Inserire Anche se ha fatto Degli errori Ragazzi Io sono convinto Che Bakayoko Secondo me È un buon acquisto Non può giocare Insieme a Benasser Però secondo me Deve giocare Deve iniziare A inserirsi E giocare Insieme a uno Dei due titolari Che sono Che si e Tonali Perciò Coppia Tonali Tonali Bakayoko Secondo me È una grande coppia Poi bisogna anche Sempre vedere Se che si Benasser Vanno Oltre Il Cioè Magari Dura due partite La loro coppa Perciò finisce lì Ed è tutto questo Bene ragazzi Bene È finita Alla fine È passato L'Empoli Ha vinto per 4-3 Grande partita Ragazzi Quest'Empoli Fa veramente paura Fa veramente paura L'ho guardata In maniera attenta Perché il Milan Fatemi abbassare Se no non capite Un cazzo Magari Ancora L'ho guardata Attentamente Perché il Milan Lo incontra Settimana prossima E si va Ad Empoli Ragazzi Questi giocano Veramente a calcio E fanno Veramente paura E altro Che partita scontata Sto cazzo Noi abbiamo due partite Napoli Ed Empoli Assolutissimamente Difficilissime Poi l'Empoli Ha vinto con Napoli Settimana scorsa Oggi è andata a vincere A Verona Ragazzi Che squadra Giocano un bel calcio Ma soprattutto Giocano spensierati Perché Oggi ti passano Il turno di Coppa Italia E se non sbaglio Chi vinceva oggi Affrontava poi Affronterà l'Inter Vabbè Comunque A parte quello Hanno giocato Spensierata Sta partita In campionato Sono più che spensierata 26 punti L'Empoli 26 punti Sì se non sbaglio 26 punti L'Empoli Che ha iniziato Sto campionato Per lottare Per non retrocedere 26 punti Ha già superato Più della metà Del traguardo Ragazzi E bancano ancora Due partite L'Empoli È molto spensierata Per questo Ho molta paura Della partita Di settimana prossima Con l'Empoli Quella con Napoli È una partita Da tripla Lo sappiamo E comunque Però se uno pensa Che l'Empoli È una passeggiata Di salute È tutt'altro Perché questi Giocano veramente A calcio Va bene ragazzi Perciò Ho detto questo Io Tornando al discorso Del Del mercato Mercato invernale Io se fossi In il mio A meno che Come dicevo appunto Non c'è il profilo giusto L'occasione giusta Io non farei Nessun tipo di acquisto Magari sistemerei Conti Perché effettivamente Tenerlo fuori Rose Se si riesce A mandarlo a giocare Ma più per il ragazza Anche umanamente Tanto oramai È perso È perso E lo mandi Da qualche parte Magari risparmi Anche l'ingaggio Sempre se qualcuno Lo prende Però a parte Sistemare Quelle cazzatine Lì Io andrei avanti Con questa squadra Non stravolgerei Assolutissimamente Nulla Nulla E tirere Perché poi Capace che magari Fai tipo La manzucchicciata Dell'anno scorso Che non ti è servita Nulla Perché alla fine Sei arrivato Lo stesso secondo E non ha mai giocato Gli hai dovuto dare Lo stipendio È un giocatore Finito Finito con te Ha addirittura Chiuso la carriera Perciò Rischi di fare Queste cose qua Io rimarrei Bello Bello schiscio Ma forse sono Una voce fuori dal coro Perché tutti quanti vogliono Arriva al mercato Compriamo di qua Compriamo di là Oramai il calcio Sembra quasi Che è bello È bello festeggiare All'arrivo Del giocatore Questo Piuttosto che Quell'altro Il calcio è bello Vincere E non è Una cosa scontata Che tu compri Il giocatore E automaticamente Vinci Non è così Non è così Io lavorerei più Sul In questo In questo mese di mercato Più che pensare al mercato Lavorerei più Sul Sul gruppo Sulla testa E su recuperare Gli infortuni Poi certi dirigenti Se avranno La possibilità Di fare qualche Qualche acquisto Conveniente Magari perché Perché ci credono Nel giocatore Ma non tanto Per Ecco Io sono di questo Opinione Vedete Scrivetemi voi Nei commenti Cosa ne pensate Perché magari Pensate che io Stia dicendo Una cazzata E se vi va Scrivetemelo Così ci confrontiamo Anzi ragazzi Soprattutto mi sono anche Dimenticato di dire Innanzitutto Di darvi il benvenuto Non mi ho manco Cagato Iniziate a parlare E non mi ho manco Bentornati a Bentornati a tutti Comunque bentornati Qua sul canale Ragazzi Iscrivetevi Ricordatevelo sempre Per chi non l'ha ancora fatto Iscrivetevi al canale Perché Questa faccia qua Non è che la trovate Così come Quando passa Dall'algoritmo Di youtube Acchiappate l'alvoro Perché non è che la trovate Così facilmente Bene ragazzi Dai adesso Si fa un po' Per scherzare Sdrammatizzo E Ebbene Bisogna parlare Di qualcosa Deve essere sincero A parte le partite Di Coppa Italia Quando non c'è il campionato La Champions League Bisogna inventarsi qualcosa Però devo essere sincero Questa è stata Una gran bella partita Perciò Stasera ci sarà Anche la Fiorentina Da guardare Vedremo Se sarà Altrettanto bella Bene ragazzi Allora dai Facciamo così Magari ci vediamo stasera Per commentare La partita della Fiorentina Vi auguro Una buona serata Una buona cena Un Un buon sport Perché alle 17 In settimana Di solito Verso quest'ora Si finisce di lavorare Si inizia ad andare In palestra Chi a nuoto Chi Io qua in casa Faccio qualcosina E Bene Ci vediamo stasera Ragazzi Mi raccomando Mettete un bel like Se vi è piaciuto il video Se vi sto simpatico Ma soprattutto Nei commenti Fate sapere Cosa ne pensate di me Ciao ragazzi E come dico sempre io Belli siete Ciao ragazzi Ciao ragazzi